Spavoribile. Marza Giovanni. Spavoribile. Il Consiglio Comunale di Albanella all'unanimità ha dato mandato all'Ufficio Tecnico di porre in essere tutti gli atti necessari al fine di scongiurare la realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti in località Tempone-Giampietro. A mancare in particolare la conformità urbanistica dell'area e l'assenza di infrastrutture viarie adeguate. Ad accogliere positivamente la decisione il Comitato Ambiente e Salute. Vi sono delle ragioni ostative, oggettive, che impediscono la realizzabilità di tale impianto. Da una parte l'assoluta mancanza di una rete viaria adeguata al trasporto pesante e che non si presta neanche ad essere sufficiente per far fronte ad eventuali scenari incidentali, malaugurati scenari incidentali, ma anche per tutta una serie di ragioni, quali ad esempio la presenza di un'azienda bufalina di un migliaio di capi, quali la presenza di 7-8 villette dove alcuni nostri concittadini, magari investendo i risparmi di una vita, pensavano di far giocare i propri figli nel giardino di casa e invece si trovano a poche decine di metri un impianto di questo genere, dove sostanzialmente abbiamo colture pregiate, un vigneto di recente installazione, carciofi, coltivazioni biologiche, coltivazioni a mais da destinare all'allevamento zootecnico. Bene, sono tutte ragioni che di fatti impediscono la realizzabilità del nuovo impianto. E' per questo che noi abbiamo nel ringraziare sicuramente il sindaco, diciamo però che non ci basta, non ci basta questa presa di posizione. Noi vogliamo che lui vada in conferenza di servizi unitamente all'ufficio tecnico a dire ai responsabili, ai dirigenti dei vari enti preposti al rilascio della nuova autorizzazione che non bisogna semplicemente leggere il progetto, che magari sulla carta sembra essere perfetto, ma occorre scomodarsi, occorre che questi signori si alzino da quel tavolo e vengono qui sul posto, vengono qui ad Albanella, vengono qui a Matinella, dove li ospiteremo, li ospiteremo e faremo in modo che loro si rendano conto in maniera oggettiva che quella non è un'area dove può essere insediato un nuovo impianto di quel genere.